E' una cosa fisica, è una cosa energetica dell'anima, quindi primo rifiuto. Seconda, che potrebbe sembrare la prima, quindi il rifiuto, la non accettazione, non ci sentiamo accettati da uno dei genitori e da grandi non ci sentiamo accettati dalle situazioni, dalle altre persone, perché magari abbiamo avuto un trauma al lavoro e da quel momento diventa la nostra realtà. Quindi non è detto che si crei solo, si può anche creare nel corso della vita, grazie a causa di forti emozioni o la ripetizione dei comportamenti. Secondo, mi hanno suggerito giusto, l'abbandono. L'abbandono è quando un genitore si dedica a qualcosa d'altro, magari a un altro figlio, a un altro fratello che ha più bisogno di cure, magari un genitore che dedica tanto tempo al lavoro. E il bambino si sente abbandonato. E se avete sentito parlare delle leggi della libertà finanziaria, si parla del bambino ferito. Avete mai sentito parlare del bambino ferito? E' questo. Finché non lo curo, mi porterà sempre nella condizione di non merito. E se non merito, cosa otterrò nella vita? Il contrario di ciò che voglio, il contrario di ciò che penso. Attenzione, ricordate, 5 e 95. Io sì che penso di voler essere felice, di voler ottenere quella cosa lì, ma non lo tengo perché l'inconscio è ferito. E l'abbandono come si ripercuote nella vita? Con la paura di perdere un qualcosa o un qualcuno. Quindi sempre quella sensazione di essere abbandonati. E nei rapporti di coppia, la paura di essere abbandonati, cosa crea? Perché mando questo tipo di messaggio. Ma il fatto che sono stato abbandonato, o ho avuto la sensazione di essere abbandonato una volta, non è detto che questa sia la mia certezza. E a volte anche l'abbandono perché un genitore ci ha lasciato prima del tempo. E quindi noi lo viviamo come un abbandono. E questo abbandono ci fa vivere sempre la paura di perdere qualcosa o qualcuno. E se abbiamo sempre la paura di perdere qualcosa o qualcuno, cosa succederà? Che non viviamo. E se il genitore ha subito l'abbandono, poi viene trasmesso? Sì, potrebbe essere trasmesso attraverso il DNA. Le paure si trasmettono. E anche nelle costellazioni familiari servono per andare a rimettere, a cambiare questa catena. Hanno un esempio lampante delle catene, delle costellazioni familiari, la famiglia Kennedy. La famiglia Kennedy, quasi tutti gli uomini hanno subito una morte violenta. E sì, ripete. Ma ognuno di noi potrebbe avere delle date o delle situazioni che rivive. A volte mi capita di parlare con delle persone che magari sotto Natale vanno in crisi, senza che ci sia un motivo apparente. Perché probabilmente nel passato o loro, i genitori hanno vissuto un trauma. Adesso dico Natale perché magari in determinate situazioni dell'anno. e la paura dell'abbandono a Natale esplode. Perché se sei da solo, la massima paura è comunque anche la solitudine, la paura di rimanere da soli. Ma noi non saremo mai soli, la solitudine è un lato oscuro. I lati oscuri sono i blocchi dei chakra, di questi punti energetici. Uno dei lati oscuri che è legato al settimo chakra è la paura della solitudine. Ma a volte la solitudine la provi anche quando sei in mezzo alle persone. E' il senso di solitudine. E' il senso di solitudine. Ma quando noi ci riequilibriamo con il nostro traessere e avere, non siamo più soli. Perché ci riconosciamo come tutt'uno, il tutt'uno. L'universo che poi è un multiverso, se dobbiamo guardare. Perché ognuno di noi ha un universo. Io ho il mio universo che entra in relazione con i vostri universi. La coscienza collettiva. Ok? Quindi l'abbandono, paura di perdere qualcosa o qualcuno. Se lo state vivendo, può essere che se andate a parlare con i vostri genitori, voi abbiate vissuto l'abbandono, la sensazione di abbandono da piccoli. E poi è legato sempre all'emozione. Alla sensazione, quindi all'emozione che tu provi. Però quell'emozione lì, è quell'emozione che quando ti trovi davanti alle situazioni, ti blocca lo stomaco. Nel senso che tu i genitori ce l'hai, però non sono presiti. Magari perché... Non sono presiti emocionalmente. Bravo, anche questo. Magari hanno dedicato la loro vita a lavorare per darti un qualcosa di materiale, ma tu non volevi il materiale. Però loro non è che l'abbiamo fatto di cattiveria. Bisogna vedere il bambino cosa vive. È una mancanza di nutrimento. Anche il fatto che la mamma sia sempre a casa e non lo consiglia. Sì, è la forma di abbandono. Quindi l'abbandono non è solo il ti lascio, me ne vado. È quella sensazione di non avere ciò che è un nutrimento o affetto. È mancanza di nutrimento o affetto. Di mia ricca. I sogni che fai quando sei piccolo. Sì. Quando sei piccolo non ne hai provate esperienze. Giusto. Potrebbero essere un riflesso di quello che tu hai provato quando la tua anima... Potrebbe essere un ricordo. Per dire, io quando ero piccola sognavo sempre di essere su una giostra che girava, giravo, e nel momento in cui mi giravo la testa i miei genitori non c'erano più. Questo sogno lo facevo, penso, tutte le notti. Ma poi otto, nove anni è finito questo. Potrebbe essere... Assolutamente sì. Potrebbe anche essere un ricordo di un'altra vita. Potrebbe essere. Io ad esempio sogno ogni tanto di essere un soldato che rimango incastrato in un cunicolo. Quindi probabilmente, non ho ancora appurato, ma sono stato un soldato che sono morto in un cunicolo. E quindi me lo ritrovo. Infatti per un periodo della mia vita mi facevano paura, mi mettevano soggezione e i posti stretti. Io faccio fatica a passare nei posti stretti. Però poi lo vedi in chiave diversa. Una sensazione di volare, i sogni. Lui è uno stato limbico. È lo stato di non... Entri in onde... In onde teta e quindi sei in un sonno consapevole. E tu come fai a provare quella sensazione se non l'hai vissuta? E chi l'ha detto che non l'hai vissuta? Ti può bruciarsi e che sente male. E chi l'ha detto che non l'hai vissuta? È quello che dico, vuol dire che... Vuol dire che ci sono degli esperimenti e persone che le hanno fatto immaginare la bruciatura a livello ipnotico e si creavano le bruciature sulla pelle. Sono esperimenti scientifici. Ad esempio, questo, o comunque tante situazioni, il nostro cervello non fa differenza tra ciò che vede e ciò che immagina di vedere. Quindi se io in condizione ipnotica ti faccio provare, ti faccio immaginare di avere la mano sul fuoco, tendenzialmente potrebbero venirti fuori le piaghe. Perché il tuo corpo... La frequenza che mette il pensiero e le emozioni, quindi la paura, va a modificare il corpo. Einstein diceva anche che non è il corpo che genera la materia... Il nostro corpo è la materia generata dal campo elettromagnetico. Quindi se io cambio il campo elettromagnetico, che è determinato dal pensiero e dalle emozioni, automaticamente vado a modificare il mio stato fisico. Quindi questa è la causa del tuo corpo? Sì, è uno scompenso emotivo, sì. La fisica quantistica è una scienza che se fosse applicata non costerebbe niente. La medicina quantistica. Noi siamo fatti di energia, se un apparato elettrico non funziona, cosa fai? Vai a lavorare sull'energia. Noi siamo fatti di energia per stare bene, messi in una gabbia di Faraday, che è un sistema di isolamento, e vai a lavorare sulla frequenza. La radioterapia, che cos'è? Radioterapia. Noi siamo onda radio, trasmettiamo. Le nostre cellule trasmettono tra di loro attraverso impulsi. Quindi la radioterapia, quando ci sono dei tumori, è cercare di ristabilire quel contatto tra le cellule, le cellule impazzite e le cellule sane. Non senti dolore. La fisica quantistica dice che se noi siamo fatti di energia, ci curiamo con l'energia, punto. Non ci curiamo con la chimica. Oppure, gli alimenti che noi ingeriamo, vibrano. Noi siamo vibrazione, e se ciò che ingeriamo ha una vibrazione che non entra in risonanza con noi, ci fa male. Basta. Ok? Cioè, molto semplicemente. Ad esempio, c'è un corso, c'è un seminario, un workshop, che poi non mi ricordo più quando è, ad aprile. Poi chiedete a lui, a Giada, e dopo, se vi interessa avere altre informazioni. C'è un seminario che si chiama Intenzione e legge d'attrazione, dove comunque si va a lavorare sulla creazione di quell'intenzione, quella famosa che mi porta ad avere i cambiamenti nella mia vita. Quindi andare ad allineare il pensiero con l'emozione. Quindi l'intenzione che cos'è? È un pensiero senza credenze e l'emozione senza paura. Quindi quella cosa pura che esce è d'energia pura e ti porta energia pura intorno. Se no io penso di volere una cosa, poi comincio a avere le credenze, comincio a avere le paure, quindi automaticamente se la frequenza di quella cosa che voglio è 50, mi trovo a vibrare a 2 e quindi cosa porterò nella mia vita? Il 2, non più il 50, che è l'intenzione pura di partenza. Le paure e le credenze mi porteranno ad abbassare la vibrazione e quindi attirerò nella mia vita vibrazioni più basse. E quindi crei quello che tu non consciamente, ma inconsciamente hai cercato. Sempre. Questa scienza aiuta a interferire sul senso che condiziona la vita. Questa scienza ti aiuta a capire qual è il potere che tu hai di far accadere le cose. Gioia ha 44 anni e ci studio e ci continuo a studiare sopra, perché anch'io caddo nel tranello. Sì, però cosa faccio? Probabilmente a forza di farlo lo riconosco prima. E quando mi alzo quelle mattine, aspetta un attimo, fermati. Ok, ovviamente sulle cavolate no, però sulle cose importanti arrivo a riconoscerle quantomeno. E quindi la vita è continuare a mantenere la mente libera da pensieri e il cuore pieno di emozioni. E quando ho le paure le affronto, qualcuno lo sa già, l'ho detto anche stasera, io, una delle mie grosse paure era quella di parlare in pubblico. È vero. Io stasera quando ho iniziato, se avete fatto caso, ho un momento di disagio, poi lo passo. Ma la paura di parlare in pubblico mi accompagnerà per tutta la vita probabilmente, però la riconosco, lo so, e ho fatto un qualcosa per lavorarci sopra. Ce l'ho, tengo lì, quando arriva la riconosco e si lavora subito sopra. So che intanto dura uno o due minuti e poi se ne va. E dopo vado. Perché? C'è anche la ferita dell'umiliazione. L'umiliazione è quando si hanno limitato la libertà, in qualche maniera, un genitore troppo severo. L'umiliazione porta alla vergogna e la vergogna cosa fa? Non ti fa esporre e quindi la paura di non essere anche all'altezza, la paura di non meritare la felicità, la paura di non meritare il successo. Se io mi vergogno, come posso pensare di ottenere successo? Perché il successo mi porta in evidenza. Se io mi vergogno, come posso pretendere di ottenere successo? Adesso sono termini comunque esplosi. Però la vergogna è la vergogna nel parlare di me, nel esprimere liberamente il mio pensiero. Io alla fine qui cosa faccio con voi? Esprimo il mio pensiero. E se continuassi a vergognarmi di ciò che penso non avrei detto una parola. Però poi alla fine dico, boh, vada come vada, che la prendano come vogliono. Se poi alla fine qualcuno di voi dice, questo qui è un matto, va bene, pazienza, ci sta. Magari lo sono davvero, magari sto creando una realtà che non esiste, non lo so, adesso esagero. Però, ci sta. Però questo non è più un problema per me, il pensiero che gli altri hanno di me. E' un po' massimo, vabbè, dai, oh. Senti, tu hai il tuo pensiero, il mio pensiero. Vi posso dire che questo che faccio a me fa stare bene. Non so se lo farò per sempre, però ciò che faccio adesso a me fa stare bene. Non è che sia stato semplice arrivare qua, ok? E questa è un'altra cosa. Facile e difficile non è possibile e impossibile. Il grado di fatica comunque io l'ho fatta. Certe cose mi vengono più semplicemente, certe cose mi vengono, cioè, faccio più fatica. Ma perché? Perché probabilmente non ho il pensiero, non ho l'emozione giusta. Allora, se voglio fare meno fatica, mi risveglio, sto un pochettino più sveglio, cerco di essere un pochettino più padrone e responsabile della mia vita ed evito di dormire. Poi mi addormento, ma quando mi addormento, casualmente succede qualcosa che mi sveglia, se non mi sono svegliato io. E quando mi succede qualcosa che mi sveglia, non dico, porca migliere, perché? Aspetta un attimo, forse... Per formarsi.net, adesso l'apro e la chiudo, perché i tempi stringono, è tardi. Per formarsi.net è andato da un'intuizione. Io stavo facendo un corso con un formatore che per me è il mio grande mentore custode, non so se l'avete mai sentito parlare di Italo Pentimalli. Facevo un corso e mi è venuto fuori per formarsi.net, aspetta, sto per formarsi.net, network. La prima idea di performarsi era quella di creare un sito che mettessi in comunicazione i formatori e il mondo dei corsisti. Poi si è evoluto, perché io ho seguito altre strade, adesso mi ritrovo a dire, ok, aspetta un attimo, formazione, formazione condivisa, perché non mettere in condizione le persone di formarsi, magari ottimizzando tempi, ottimizzando investimenti, e quindi, ok, formazione condivisa, esistono i gas, gruppi di acquisto solidale, perché non si mettono in condizione le persone che si mettono d'accordo tra di loro e magari comprano dei pacchetti di corso. E quindi tutti ne hanno un vantaggio. Quindi intanto ci si comincia a muovere insieme. E poi, magari, aiutano le altre persone a formarsi e hanno dei vantaggi. E quindi è nato il network. Adesso si sta prendendo forma il network. Dove comunque all'interno, al di là di quello che è la mia competenza, perché poi ho i seminari, poi ci sono anche dei corsi che lavorano proprio sullo sviluppo dei quattro poteri di base, che sono identità, azioni, emozioni e pensieri. Poi ci sono dei workshop, ma voglio portare all'interno anche persone che magari insegnano a vendere. Insegnano tutte quelle tecniche trasversali o competenze tecniche che servono a ognuno di noi per vivere. Magari che aiutino a sviluppare la mentalità della libertà finanziaria. Ma la libertà finanziaria, finché la vediamo come un peccato, la vivremo come un peccato. E io sono stato uno dei primi che l'ha vissuto come un peccato. E cosa ho creato nella mia vita? Debiti. Che ho incominciato a risolverli quando ho incominciato a vedere la situazione sotto punti di vista diversi. Perché se, sta sentire, sempre vergogna, se mi limito...